Amici, stiamo tornati con una voce incredibilmente storpiata e in un nuovo MassaRisponda, il format più piaciuto e seguito di YouTube Italia, ma anche no, di domenica, ma non è domenica perché c'è stato il MobVote. Avete votato? Chi avete votato? L'avete visto? Non l'avete visto? Scrivetelo nei commenti, oltre alle solite domandine. Oggi andremo a rispondere ad altre domande incredibili fuori di testa del server Discord. Vi invito, come sempre, a lasciare un mi piace, un commentino e soprattutto attivate la campanellina, che schifo non fa, e iniziamo. Ci sono un botto di domande, ma un botto di domande. L'ultima volta ci eravamo lasciati con la domanda inerente allo speciale 5.000-10.000 e oggi iniziamo con una nuova domanda, che inizia con Hey Massa, ho una domandina, prego dimmi pure signor Atlan, ma il tuo logo, per capirci quello della M nera, lo hai copiato oppure l'hai fatto a te racconta? Allora, il logo l'ho fatto io, ma è tipo una stupidata facilissima, ho preso tipo dei font particolari, mi sono messo a cercare su internet, ho un po' modificato colori, roba incredibile, boom! E' uscita una M, che a molti è piaciuta e non so, fiatemi sapere se mi piace come logo, in caso magari posso rinnovarlo tra qualche tempo, non lo so. Però l'ho fatto io, ma è facilissimo. Seconda domanda, LOL, bene. Lo accetto. Terza domanda. Ma a proposito di Temtem, video vecchissimo, è uscito su console ormai, ma do Temtem, ma do, quanto vecchio quel video, avevo 12 anni quando l'ho fatta, a momento, più o meno, 12 anni. No, non è ancora uscito su console, mi sa che esce nel 2021, sì, sono abbastanza sicuro. Oh, è già uscito. Aspetta che controllo. No! Allora, hanno cancellato le versioni PS4 e Xbox One, Xbox One, e arriverà nel 2021, esatto, per PS5 e Xbox Series X. Fare un video spoiler su Cyber Minecraft, vi faremo sapere, vi lascio un po' nel dubbio. Oddio, la domanda più temuta che non volevo che nessuno mi facesse, dato che non so rispondere. Che PC hai? E poi, seconda domanda, che mouse hai? Allora, per il mouse, Magic Eagle si chiama, in caso vi potrei lasciare il link di Amazon. Se basta dell'editing, c'ha voglia, vi lascio il link, altrimenti, niente. Invece il PC, il PC, che dire, diciamo che sono vari pezzi montati, tipo c'è una scheda grafica particolare, poi c'è un altro robot particolare. Potrei dirti, non lo so, potrei informarmi. Aspettate 5 minuti. Per voi è passato un secondo, per me 20 minuti, tipo. C'ho tutte le specifiche del PC. Sì, ce le leggeremo tutte. Allora, c'è un processore Intel Core i7, che è buono. Una scheda madre Asus Prime H1, non lo so, vabbè, una scheda buona. La RAM da 16GB, ovviamente 2400MHz. Scheda grafica Nvidia GeForce, quella RTX 2070. Sì, sto leggendo tutto al cellulare perché non mi ricordavo niente. Una 2070 che è buona, non è una tra le ultime uscite. Mi sa che è uscita nel 2016, 17 dovrebbe essere. Quindi è ottima. Vabbè, 480GB. Poi c'ho il secondo disco rigido da 1000GB. Wi-Fi, vabbè, prende il Wi-Fi, ovviamente. C'ho il case che è stracarino. Quello è stracarino, ovvero il rivestimento del computer. Che si chiama Inferno. Ok, va bene. Scheda audio integrata e alimentatore 600W. Che non ho idea di cosa significhi. Lanciamo via il cellulare. Madò, mi stava cadendo. Mi sarei messo a piangere in diretta. Però queste sono le statistiche del PC. Se lo trovo, ve lo metto sempre in descrizione. Ma di sicuro non c'avrà voglia. In caso guardatelo in descrizione. Prossima domanda. Signor Master. Ma con quale regalità? Come andavo a scuola? Eh, benino, malino. Come avevo detto in un altro Master risponde. Sono stato bocciato un annetto. Andavo benino. Però rispondevo agli insegnanti. Quindi stavo letteralmente sulle palline. Per non dire... Anche se l'ho detto, l'avrò censurato. Comunque sì, dai, andavo benino. Però diciamo che ero un po' irrequieto. Non mi piaceva star seduto ad ascoltare la lezione. Mettiamola così. Sia medie che elementari che superiori. Sì, ho fatto prima le medie e poi le elementari. No, scherzo. Che carattere avevano i tuoi professori? Ma oggi tema scuola. I miei professori avevano un carattere di... Andavano in contrasto col tuo? Sì, un botto. Ma tipo un botto, come ho spiegato letteralmente due secondi fa. Comunque sì, andavano un botto in contrasto col mio. O ero... Anzi, ero io che andavo in contrasto con loro. Prossima domanda. Come mai hai scelto YouTube? Avevo già risposto. Recuperatevi il vecchio Master risponde. Quello dove racconto come ho rapito il gatto alla mia vicina. Sì, ho rapito il gatto alla mia vicina. Cosa faresti ora se non ci fosse YouTube? Il barbo... No. Farei... No, non lo so. Magari la mia vita sarebbe migliore. Magari mi metterei a studiare, fare una carriera nel mondo del lavoro, conoscere gente. O magari sarei un barbona. Prossima domanda. No, non lo so cosa farei. Boh, non lo so. Mi piacerebbe fare... Ma magari li faccio lo stesso anche durante YouTube. Tipo gli spettacoli stand-up comedy. Quelli mi piacerebbero un botto tipo cabaret, stand-up comedy. Solo che in Italia non è che vanno molto, però... Mi informerò. Carino, quali mi piacciono. Che indirizzo hai preso alle superiori? Ho fatto sia lingue, e ho studiato quattro lingue diverse, cioè italiano, ok, e altre tre lingue. E poi ho fatto anche scienze umane, psicologia, sociologia, tutte quelle cose. Volevi proseguire gli studi dopo il diploma? Prossima domanda. Qual è il tuo obiettivo su YouTube? Ovviamente potrei fare il modesto e dire fare dei bei contenuti a piacere e crescere il più possibile, oppure dire spaccare di brutto ed essere il migliore. Puntate sempre al massimo. Lezioni di vita, vai master, dovrei farci un motivetto. E oltre alla sigla, madonna, non c'è ancora la sigla. Che imbarazzo. Un giorno farei un video con gli iscritti con un gioco diverso da Among Us? Sì, il live. Seguitemi su Twitch, link in descrizione. Dove in teoria nella descrizione ci sono anche le specifiche del computer, ma il link di Twitch c'è di sicuro. Domanda tecnica. Come hai fatto a mettere il link di YouTube su Twitch? E rispondono. Me lo chiedo anche io. Sono cinque mesi che cerco il modo di farlo. Mio Dio, vi devo fare tutorial come metto il link di YouTube su Twitch. Allora, togliamo l'F11 e andiamo su Twitch. Finiamo questo video con un tutorial. In teoria, dato così mi spammo anche il canale Tech, spammata tattica, basta andare su, ovviamente, Twitch, sulla dashboard del canale che è in alto a destra sul PC e vi trovate il link dei social network. E qui potete mettere tutti i link che volete, tipo il canale YouTube, ho messo anche Instagram a caso, seguitemi su Instagram. Il link è sempre in descrizione, anche se non lo uso molto. E potete aggiungere tutti i link che volete. Se avete Facebook, io ce l'ho ma non lo uso. Avete, non lo so, TikTok, potete metterlo. Avete Snapchat, potete mettere tutti quelli che volete. Twitter anche. Che non dovrei iniziare a usare Twitter. E basta, e posso programmare le streaming. Comunque è facile, basta andare nella dashboard del canale. Quindi, 5 secondi, ti ho risolto la vita. Spegni, stacca, stacca. Vi ringrazio per essere passati in questo Master Risponde. Spero di aver risposto a tutte le domande. Non lo so, in teoria sì, in teoria no. Scrivetevi nel server Discord o qui sotto nei commenti di YouTube. Se ne ho saltato qualcuna, fatemelo notare e insultatevi nei commenti. Vi ringrazio per la visione del video. Appunto, è tutto domani. Al solito ero vero l'1.45. Mio Dio, lo sto dicendo senza respirare. Con un nuovo video. Ciao. Woo!